Sicuramente il settore salute sarà molto impattato nei prossimi dieci anni per quanto riguarda l'innovazione. L'innovazione oggi ci offre tantissime opportunità, a partire dall'intelligenza artificiale, da tutti i tool connessi all'intelligenza artificiale, che ci dà la possibilità di interconnettere tutte quelle che sono le esperienze che l'healthcare vive in tutte le parti del mondo. Se voi ci pensate, oggi noi siamo non connessi. Cioè se un medico a New York commette un errore, una procedura, anche utilizzando magari un farmaco nuovo, innovativo, un device, questa cosa non viene registrata. E la stessa cosa si può ripetere a Sydney, si può ripetere in Egitto, si può ripetere in Europa. Nel futuro ciò non avverrà più. Questo sarà un grossissimo passo in avanti. Tutti noi saremo sicuri di poter essere curati nello stesso modo, con le stesse possibilità, in qualsiasi parte del mondo.